Ciao a tutti, volevo mostrarvi la mia scuola, Dante Allighieri. Ci troviamo nel campo da basket, grande orgoglio della nostra scuola. È davvero ampio e nelle belle giornate di sole svolgiamo lezioni all'aperto, ricreazioni e attività fisica con i nostri insegnanti. Qui si radunano tutti gli alunni del tempo pieno che entrano dalla scala direttamente al primo piano. Ma ora andiamo di corsa all'entrata principale. I miei compagni sono già tutti pronti in fila. Ecco, è suonata la campanella, seguitemi. Siamo davanti all'ingresso principale, da dove entrano le classi del tempo modulare. Saliamo le scale. Guardate il nostro corridoio come è ampio e luminoso. Qui a destra, in questo atrio, abbiamo una biblioteca piena di libri, frutto di tanti progetti ai quali noi alunni abbiamo partecipato. Venite, vi mostro un'aula del tempo pieno. Come potete vedere, tutte le aule della nostra scuola sono dotate di lavagne multimediali che ci permettono di svolgere lezioni in maniera più coinvolgente, perché possiamo in modo interattivo approfondire gli argomenti che con l'ausilio di audio, video e documenti autentici. Saliamo al secondo piano. Qui ci sono le classi del tempo comune. Entriamo in un'altra aula. Come potete notare, anche questa, come tutte le altre, è fornita di lim. Inoltre, la scuola è dotata di un buon numero di computer e tablet che vengono riposti in un grosso armadio dopo averli utilizzati. Ora, torniamo giù al piano terra. Lungo il corridoio troviamo la mensa. Tutti noi mangiamo in questa fantastica mensa che è stata recentemente ristrutturata. Allora, che ne dite? Vi è piaciuta la mia scuola? Io sono certa di sì.